ok bravo bravo siii no 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 dov'è che sta ah lo vedo comunque ci vado subito quindi non pensare che non ci hanno visto ma è da solo andiamo dietro e bene ci dobbiamo boxare andiamo in save finita sinistra da giù che non vuole andare al pomodoro che sono qua si stavo con la testa fuori oh porca di quella vado se si mette sul mio box ne è una goduria vado 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 sono scarsi no in che senso vado c'è tu apri codo ma lo sapevo vado 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 ma vado hai vado venturi vado ho fatto in vado vado vedi sopra ne se si mettono sopra a noi chiudo ogni volta che vado ma dodo triplo 31 a 1 skin ghiaccio non c'è tanto non c'è l'acqua che si mettono 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 mamma mia non c'è l'acqua che si mettono non c'è l'acqua che si mettono non c'è l'acqua che si mettono